Allora, è molto bello tutto quello che stanno dicendo i colleghi, soprattutto il collega di Priamo, perché le responsabilità ci sono, ci sono tutte, ci sono a partire da chi li ha aperti i campi Rom, ed è anche sbagliato dire che è un fallimento il nostro piano di chiusura dei campi, perché noi in affetti li stiamo chiudendo e qualcuno di meno già ce ne sta, quindi state sereni su questo fronte, non è assolutamente come state dicendo, capisco che scocci quando le cose vengono fatte e vengono fatte dagli altri, appunto perché noi ci stiamo preoccupando anche di queste situazioni, io vi informo che martedì prossimo ci sarà in commissione l'audizione del dottor Zagari e probabilmente anche del dottor Cardilli per la situazione di emergenza in tutte, sia nei campi Rom che in tutte le altre situazioni emergenziali. Poi sarebbe anche bene che i colleghi si studiassero un po' di cose, perché il Selam è un palazzo occupato, ma la storia è molto particolare e le persone che non si sa che titolo stanno là sono dei rifugiati politici, quindi penso che se studiassero un attimo le cose che riguardano la città forse saprebbero di che cosa parlano. Noi su questa mozione ci asserremo anche perché ne abbiamo già approvato uno simile e perché stiamo lavorando anche su questo e quindi non crediamo che si possa dire di sì a delle cose che già si stanno facendo, già si sono chieste e si sono votate e cerchiamo di ottimizzare il tempo e di ottimizzare anche le proposte per cortesia. Grazie.